Uno dei punti di forza del Comune di Trecastelli è senza ombra di dubbio il settore cultura che, anno dopo anno, continua a riscuotere consensi e apprezzamenti da ogni parte d'Italia per le innumerivole iniziative che vengono continuamente pensate e organizzate. Parliamo di cultura, parliamo di tipicità, parliamo di valorizzazione di una comunità. Ma a volte si pensa che con questo percorso possa venire a meno la propria identità, la propria storia, le proprie tradizioni. Dobbiamo invece piuttosto essere convinti che queste unendole non soltanto si preservano ma si arricchiscono perché oggi, grazie all'opportunità della fusione e quindi anche più risorse, abbiamo veramente la possibilità, la capacità di valorizzare ogni singola specificità che sia storica, che sia culturale, che sia artistica. Quindi abbiamo la possibilità veramente di far crescere le comunità. Un riferimento fondamentale per lo sviluppo culturale viene dal Museo Nori e Nobili che, da sempre, ospita appuntamenti di grande prestigio. Recentemente, dopo un lavoro attento e scrupoloso, è stata allestita la mostra Essere Nori, con opere inedite della collezione del Museo Nori e Nobili. Ci riempie di orgoglio far conoscere la nostra pittrice, la nostra donna legata al nostro territorio, la sua arte. È un'arte d'impatto, è un'arte profonda, è un'arte che ha mille sfumature e di grande emozione. Il nostro centro studi, e queste sono le stanze che lo ospitano, tratta tematiche al femminile, dalle più disparate, non lo so, dal coraggio delle madri argentine alla bellezza delle donne. Nori è uno spunto per tante tematiche molteplici e di grande sfaccettatura, come è l'universo femminile, d'altronde. L'esposizione presenta opere significative del percorso artistico della pittrice e pagine del suo vissuto. Nori, la donna dai tanti volti, si è così potuta ammirare nei dipinti che lo scorso anno sono stati presentati a Milano, al Museo Casa delle Arti, Spazio Aldamerini, e in altre opere inedite della collezione. Il progetto, inaugurato nelle stanze del centro studi sulla donna nelle arti visive contemporanee, è stato organizzato dalle comuni di Trecastelli e dal Museo Nori e De Nobili, in collaborazione con il Musinf di Senigallia, il Museo Casa delle Arti, Spazio Aldamerini di Milano e il patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione Marche. È una virtù della città e quindi adesso che ha questo grande patrimonio di 1.400 opere, tutte radunate, consente anche ai giovani critici e alle giovani che si affacciano alla critica di esaminare con attenzione le opere. Dare il suo ruolo, la sua visibilità, la sua evidenza a Nori e De Nobili, che era morta nel 68 in manicomio, sconosciuta alla fine e con grande sofferenza, io credo che sia veramente rendere merito all'intelligenza, alla storia e alla cultura delle donne. Come detto, il Villino Romualdo e il Museo Nori e De Nobili sono da sempre il fulcro della cultura di Trecastelli. Qui vengono pensate e organizzate tutte le iniziative che caratterizzano il cartellone della cittadina. Quello che è importante capire è che la grande collezione che abbiamo la fortuna di avere è proprio di tutti i cittadini. Il museo è di Trecastelli e dei nostri cittadini noi abbiamo la particolarità di avere un museo tutto al femminile. La cultura deve essere la parte fondamentale della vita perché specialmente adesso che con la crisi, che ormai è diventata, non è più una crisi ma è fisiologico questa congiunzione economica, la cultura può comunque sia essere la scintilla per andare avanti e creare magari anche nuovi posti di lavoro. Tra i tanti eventi del 2016 vanno ricordati lo spettacolo musicale William Shakespeare, un piede a terra, l'altro fra le stelle, evento che ha visto la straordinaria interpretazione di quattro grandi professionisti, Lucia Fiori Soprano, Stefania Betti Arpista, Mauro Pierfederici Attore e Cecilia Brammucci Violinista. Un recital dedicato a Shakespeare di cui ricorre nel 2016 il quattrocentesimo anniversario della scomparsa. La serata è stata inoltre occasione per visitare nelle stanze delle Centro Studi sulla Donna nelle arti visive contemporanee la mostra fotografica di Lorenzo Cicco di Massi, Le donne volanti. L'esposizione, inaugurata lo scorso 4 agosto, ha proposto la tematica dell'immaginario artistico al femminile con una serie di scatti in cui bellissime figure innalzate in volo sono protagoniste indiscusse di immagini realizzate nel bianco e nero. La territorialità dell'esposizione è rimarcata ancora di più dalla presenza di tante ragazze della provincia che si sono prestate al ruolo di modelle nella realizzazione di affascinanti scatti fotografici in cui sono esaltati i ruoli del femminile. Anche nell'ambito del quarto raduno fotografico delle Marche, al museo si è svolta una visita guidata alla mostra fotografica Le donne volanti di Lorenzo Cicco di Massi. E a proposito di donne, il museo ha celebrato la giornata internazionale della donna con la presentazione, lo scorso 5 marzo, del libro 12 passi nella storia, le tappe dell'emancipazione femminile a cura di Lidia Pupilli e Marco Severini. Un quadro di insieme di alcune tra le principali tappe che hanno trasformato la condizione della donna moderna e che le hanno fatto fare un salto di qualità, delineando un itinerario rivolto nella direzione del superamento della discriminazione, dell'inferiorità e della marginalità che hanno a lungo condizionato la sua vicenda storica. Lo scorso 12 marzo poi Trecastelli ha vissuto un sabato tutto dedicato alla donna. Presso la sala consigliare è stato celebrato il premio Donna Cultura Associazione Ande Marche mentre al museo è stata inaugurata la mostra di Chiara Diamantini a una donna di Numenori. Due grandi eventi in un'unica data per commemorare il mese di marzo che come noto si rivolge all'immaginario femminile. Nello scorso mese di giugno è stato invece presentato il libro di Anna Pia Giansanti Facciamo la Santa Monica, storia e storie di un rito predittivo tra devozione, arte e magia. La pubblicazione è un ponte tra il sud e le marche tra la Magna Grecia e il Monte Feltro con un timido affaccio sulla verde e boscosa Umbria e uno sguardo all'abruzzo ferito definito terra di nessuno. Il 9 ottobre scorso, aderendo alla giornata nazionale delle famiglie, il museo è stato proposto un laboratorio creativo per bambini e famiglie. Lo spazio musicale è così diventato uno scenario in cui sia i piccoli visitatori che i loro accompagnatori hanno preso parte a una vincente caccia al dettaglio. L'occhio magico all'insegna dell'arte e della fantasia è stato il laboratorio condotto da Laura Pettinelli che ha visto la partecipazione dell'artista Vito Maria Carfi. Tra gli ospiti di prestigio del museo, lo scorso 10 aprile, è l'arrivo di Dacia Maraini. Ad accogliere la celebre scrittrice c'erano il sindaco Fausto Conigli e l'assessore alla cultura Valentina Marinelli. La scrittrice si è dimostrata molto interessata alle opere di Nori De Nobili e al suo percorso di vita travagliato. Altrettanta attenzione, Dacia Maraini ha dato la mostra a una donna di nome Nori, dichiara Diamantini, e al centro studi sulla donna nelle arti visive contemporanee. Iniziativa di grande spessore è anche i festeggiamenti dedicati ai 18 anni di Trecastelli presso il centro di aggregazione giovanile di Castelcolone in occasione dei 70 anni della Repubblica Italiana. La manifestazione, anche noi maggioreni, ha voluto essere un messaggio significativo rivolto ai giovani di Trecastelli che hanno raggiunto una tappa importantissima della vita. La maggior età e nell'occasione il sindaco ha consegnato a ognuno di loro una copia della Costituzione italiana. Tutti gli eventi organizzati hanno ottenuto un successo di pubblico enorme, lo abbiamo visto, ci sono state tante presenze e devo dire che anche il museo nel 2016 ha fatto il suo exploat. Dal 2015 sono raddoppiati il numero dei visitatori, turisti, residenti, persone interessate al museo e al lavoro che stiamo portando avanti e sono anche, devo dire, raddoppiati il numero dei laboratori, delle scuole che hanno partecipato al museo, scuole che vengono al museo per delle gite scolastiche, che passano la giornata a Trecastelli. Abbiamo avuto oltre 500 bambini divisi tra scuola dell'infanzia e primaria che hanno passato la giornata con noi, con Nori e con gli operatori sul territorio. Altra visita illustra è quella della Presidente della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, Mary Marziali, assieme alla Vice Presidente Marcella Falà e altre commissarie della Commissione impegnata su diversi fronti a sostenere iniziative tematiche al femminile. Aderendo al Grand Tour Musei 2016, il Museo Nori di De Nobile ha inaugurato il 21 maggio la mostra fotografica Madri Coraggio, le donne di Plaza De Maio. L'esposizione ha proposto fotografie di Paola Donatiello, antropologa culturale esperta in diritti umani con immagini dedicate alle donne che hanno lottato per cercare i propri padri, figli e nipoti scomparse a causa della dittatura militare in Argentina tra il 1976 e il 1983. Abbiamo la Commissione Pari Opportunità regionale che sempre ci fa vedere il suo sostegno, il suo apprezzamento, sono venute in visita e tutte le volte patrocinano i nostri eventi e vengono a dimostrarci il loro affetto con la loro vicinanza. Poi chiaramente la collaborazione con il Museo Aldamerini di Milano sicuramente è una collaborazione prestigiosissima, è stata patrocinata dal Senato della Repubblica e quindi le collaborazioni diventano collaborazioni sostanziose. Anche nel 2015 sono state numerose le iniziative culturali di rilievo, tra le quali meritano una considerazione particolare il progetto Artigiani del Domani, attuato attraverso la qualificazione di spazi comunali dedicati all'informa giovane, allo studio e all'informatica, al video e al gioco relax, l'avvio di laboratori e l'organizzazione di eventi culturali. Per la rassegna di cinema itinerante Tre Castelli sotto le Stelle, in estate, nel cortile del Centro Sociale a Monterado, nel Centro Storico di Castelcolonna, nel Parco Sofia di Passoripe, presso il Parco della Pace a Ponterio e al Villino Romualdi di Ripe, sono stati proiettati gratuitamente diversi film d'autore. Anche lo scorso anno molte attenzioni sono state incentrate sul tema della donna. Per celebrare la giornata mondiale contro la violenza femminile è stato organizzato presso il Museo dei Nobili un incontro con tre artiste contemporanee a confronto, attive fin dagli anni 70 sui temi al femminile. Al Villino Romualdo si invece svolta il 6 maggio la lezione didattica Donna e Pittura Artemisia, cura di Anna Pia Giansanti. Un percorso formativo dedicato alla figura di Artemisia Gentileschi, con spaccati di vita della pittrice di scuola caravaggesca, impegnata a perseguire contro le difficoltà della vita la propria affermazione artistica. Sempre al Villino Romualdo, a giugno si è svolto un piacevole concerto di musica celtica, con testi e melodie che hanno raccontato di fatti popolari, amori, sogni e paesaggi. Il protagonista è un gruppo che è nato dalle esperienze e dal percorso di studi di tre ragazze, accomunate dalla grandissima passione per la musica celtica. Al centro di aggregazione giovanile di Castelcolonna sono stati organizzati corsi gratuiti di inglese, di informatica avanzata e di Photoshop, aperti a tutti i cittadini da 16 anni in su. Per la giornata nazionale delle famiglie al museo 2015, l'iniziativa Che gusto al museo, proponendo ai giovani visitatori e alle loro famiglie un viaggio alla scoperta delle opere della pittrice Nori De Nobili attraverso una visita guidata animata, condotta da Alessia Canducci e un elaboratorio creativo. Nel frattempo si è consolidato il suo dalizio tra il museo Nori De Nobili di Tre Castelli e il museo Alda Merini di Milano, con l'inaugurazione della mostra dedicato a Nori, 22 artiste per Nori De Nobili, a cura di Maria Iannelli. In esposizione, dal dicembre 2015, le opere delle artiste del museo milanesi, con lavori che si ispirano alle due figure femminili protagoniste, Nori De Nobili e Alda Merini. La prima tappa di questa collaborazione si è tenuta a Milano, al museo dedicato alla celebre poetessa, dove si è inaugurata una mostra di opere della stessa Nori. Alla museo di Tre Castelli è anche la mostra fotografica di Emanuela Sforza, ritratti al femminile, dove l'autrice cattura l'attimo in cui corpi sinuosi si muovono, soffermandosi sull'espressione dell'essere umano e ritraendolo nel suo ambiente, in un gioco caratterizzato da eccezionali contrasti di bianco e di nero. E poi, per la notte dei musei, la mostra di Mirella Bentivoglio, con un'apertura straordinaria fino a tardasera. La Bentivoglio, artista tra le più prestigiose della poesia visiva a livello internazionale, poetessa e performer, opera nel campo delle poetiche verbovisuali. Per anticipare la giornata internazionale della donna, lo scorso 7 marzo, al Vigilino Romualdo, si è inaugurata la mostra Nori De Nobili Donna tra le donne, a cura di Chiara Diamantini. Per iniziativa, anche noi maggiorenni 2015, l'evento è stata l'occasione per illustrare tutti i futuri progetti dedicati ai giovani, per i quali c'è da sempre grande volontà di investire e offrire nuove opportunità. Il 2015 è stato il primo anno della rassegna Tre Castelli, cinema sotto le stelle itinerante, e capace di coinvolgere diverse località del territorio, grazie al lavoro del Comune, in collaborazione con l'associazione Nuvole Piatte Ollus e il patrocinio della Regione Marche. A ottobre, invece, un premio di arti visive, in occasione della giornata del Contemporaneo, con la mostra collettiva delle giovani artiste, selezionate per il premio di arti visive Nori De Nobili. L'esposizione, a cura di Annalisa Filonzi e Federica Mariani, ha presentato le opere di artiste selezionate tra oltre 70 partecipanti, provenienti da diverse regioni d'Italia e dall'estero. Tre Castelli e cultura con la C maiuscola, ma anche per le politiche giovanili si sta facendo veramente un lavoro strepitoso. Sì, il nostro centro di aggregazione giovanile, che si trova nell'ex Municipalità di Castelcolonna, da circa un anno e mezzo dalla sua apertura, ha raddoppiato gli utenti. Quest'anno la collaborazione con la scuola è stata fondamentale, tant'è che i ragazzi svilupperanno proprio nel centro di aggregazione giovanile il giornalino scolastico. Saranno loro il pomeriggio, che saranno giornalisti, realizzatori di blog, e quindi la connessione con la scuola ha sicuramente portato un valore aggiunto in più. È un luogo dove i ragazzi possono provare nuovi modi di stare insieme, nuovi modi di sperimentare e anche passare il proprio tempo libero in maniera alternativa rispetto al pomeriggio a casa davanti alla TV. Nel corso del 2014 merita in una citazione l'incontro con Maria Mulas, una delle più illustri fotografie italiane, al museo per parlare dell'opera Omaggio a Nori De Nobili 2014, realizzata esclusivamente per il Museo Nori De Nobili. A ottobre la stessa Mulas ha poi esposto, in occasione della giornata del contemporaneo, dei due anni di apertura del museo. A novembre invece la mostra a Nori De Nobili, la viaggiatrice immobile, con l'esposizione, curata dalla critica d'arte marchigiana Annalisa Filunzi, di cinque artisti di origine marchigiana, Simona Abramati, Allegra Corbo, Giovanni Ghiandoni, Luca Lavatori e Patrizia Morinari. Quando nasce un nuovo comune, penso ad esempio a Tre Castelli, dobbiamo essere consapevoli che il comune che nasce non è un luogo fisico, è un luogo istituzionale, i luoghi fisici rimangono quelli che c'erano prima ed è lì che noi vogliamo lavorare, caratterizzarli, ciascuno per le sue tradizioni, quindi l'obiettivo è proprio caratterizzare queste tre municipalità, queste tre località e anche attraverso la fusione a far diventare un po' il punto di riferimento di un territorio abbastanza ampio. E invece il sogno? Il sogno è creare un comune efficiente, noi stiamo lavorando finché si possa lasciare attraverso questo percorso ed è qui il vero valore della fusione, un comune che sia efficiente, con servizi efficienti, estesi ed efficienti e soprattutto sostenibili.